Quali sono state quelle abitudini che mi hanno aiutato nell'arrivare qui dove sono oggi partendo da dall'essere un ragazzo che lavorava in stalla per 5-6 euro all'ora in provincia di Reggio Emilia, al trasferirmi in Inghilterra in un paese dove non conosco la lingua per poi iniziare diversi business, fallire alcuni, avere successo con altri e arrivare qui dove sono oggi dove abbiamo generato milioni di euro con i nostri business, generato milioni di euro per i nostri clienti però quali sono state quelle abitudini? E se ti stai chiedendo se queste abitudini qui sono fare la doccia fredda, svegliarsi alle 5 e mezza del mattino, leggere libri, un libro al giorno, allenarsi no, non saranno queste qui quindi oggi andrò a condividerti le 4 abitudini che hanno cambiato drasticamente la mia vita mi hanno reso ricco, parliamo con la prima prima abitudine è ricordarsi del goal tutti i giorni, tutti i giorni ricordati del tuo goal perché non importa quante abitudini provi a inserire nella tua vita, non importa tutte le abitudini che andrò a dirti oggi in questo video qua valgono 0 se non ti ricordi del tuo goal tutti i giorni quindi questa è la prima abitudine, so che sembra banale ma è uno step fondamentale, sono le fondamenta tutti i giorni devo ricordarmi del mio goal, solo in questo modo qui potrò andare a, se vuoi iniziare a inserire nella mia vita alcune abitudini, iniziare a seguirle e fare determinate cose tutti i giorni, tutte le settimane perché ti ricordi del goal e potrai andarla a fare per una durata di tempo abbastanza lunga per poter adesso vedere i benefici di questa abitudine qua perché se no puoi oggi partire con 10 abitudini, 10 cose che inizierai a fare tutti i giorni però se non ti ricordi del tuo goal stasera esci con un tuo amico che ti dice oh andiamo a fare questa cosa qua e tu sei lì che dici ok dovrei dormire presto oggi però dai facciamola, fa niente perché ti sei scordato il tuo goal, quindi ricordarti del tuo goal tutti i giorni ti aiuterà drasticamente nel poter avere delle buone abitudini